Arisa Sanremo 2018 con un vestito preso alle bancarelle Vestito Arisa Sanremo 2018, la cantante sul palco dellAriston ha indossato un abito vintage preso alle bancarelle. Un nuovo look di Arisa è stato sfoggiato magnificamente ieri a Sanremo durante la quarta serata. Invitata al festival per duettare con Giovanni Caccamo, Arisa ha mostrato la sua nuova immagine in tv per la prima volta proprio sul palco dellAriston. Questa tuttavia non è una novità per chi la segue sui social che, in verità, ha già avuto modo di ammirare la trasformazione della cantante in tempo reale. . Capelli lunghi e sguardo accattivante ma, soprattutto, una nuova voglia, quella di piacersi e piacere. . Pochi minuti fa Arisa ha voluto usare il suo profilo Instagram anche per ringraziare chi ieri, dietro le quinte, ha lavorato per rendere il suo aspetto perfetto. . Arisa, abito indossato Sanremo 2018, ecco dove lo ha preso. . Trucco, accessori e scarpe sono stati curati nel dettaglio da professionisti ed artigiani del settore, i gioielli, infatti, sono stati fatti a mano apposta per lei. . Ma di chi era il vestito che Arisa ha indossato a Sanremo? Bene, è proprio lei a dare l'esclusiva. . Grazie a tutti, ieri è stato veramente importante scrive lei su Instagram un saluto anche alla signora Marina o Marinella, del banco del mercatino vintage sui navigli per avermi venduto il vestito di scena a pochissimo, con la promessa che l'avrei messo a Sanremo. . .